Rokinmille Sono venuto qua a raccontare la storia di Rokinmille in una versione ridotta perché mi piacerebbe approfondire delle altre tematiche che stanno dietro a Rokinmille, che riguardano un po' il nostro futuro. Rokinmille è partito nel 2015 e quello che vedete qui alle mie spalle è un video che è uscito e ha raccontato la nostra storia. Insieme a un gruppo di amici volevamo invitare i Foo Fighters a tenere un concerto a Cesena e quindi abbiamo chiesto a mille musicisti di suonare tutti insieme contemporaneamente una delle loro canzoni. Questo video è diventato virale, oggi conta oltre 46 milioni di visualizzazioni e i Foo Fighters, dopo aver visto questo video, hanno accettato il nostro invito e sono venuti a Cesena a tenere il concerto. È stato un enorme successo che è totalmente inaspettato, diciamo, e da lì è uscita una storia che è andata avanti e che ha visto la costituzione di una... Scusate. Sì, facciamo un po' di casino. Ed è partita una storia che riunisce migliaia di musicisti provenienti da tutto il mondo. Organizziamo degli eventi, dei concerti negli stadi, coinvolgendo musicisti di ogni razza, di ogni genere, di ogni estrazione sociale, di ogni livello di preparazione. E l'obiettivo che vogliamo dimostrare è quello che persone normali, musicisti comuni, che poi in realtà comuni non sono, quando stanno tutti insieme, sono ben organizzati, sono talo intuosi, sono motivati, riescono a raggiungere dei risultati che sono davvero impensabili, riescono a riempire gli stadi come le grandi rock star. Quello che vedete qui dietro sono un po' di video degli eventi che abbiamo organizzato in questi anni, in Italia, negli Stati Uniti, in Corea del Sud, in Austria, insomma abbiamo girato tanto, siamo diventati una band globale a tutti gli effetti. Quello che ci chiediamo spesso è perché i musicisti si iscrivono? Cioè perché decidono di partecipare? E la risposta che ci siamo dati è un po' questa. Perché magari desiderano essere più visibili, desiderano avvicinarsi, approcciarsi a una sfida, oppure decidono di fare qualche cosa di nuovo. Questo qui è il gancio attraverso il quale noi riusciamo a coinvolgerli. Una volta che però hanno partecipato succede qualche cosa che li porta a rimanere dentro Rocky Mili dopo questa prima esperienza, e il motivo è il rapporto umano che si genera all'interno di questa comunità. Cioè queste persone si ritrovano in mezzo a musicisti provenienti da tutto il mondo, passano due giorni o tre giorni a non fare altro che suonare, a respirare musica, a conoscere nuove persone, fanno una esperienza davvero reale. E questo genera in loro una enorme sorpresa. Ed è strano pensare che comunque una cosa normale, naturale, che bene o male rappresenta la nostra natura, riesca a rappresentare una sorpresa così grande. Tanto da farmi riflettere un attimo sul dove stiamo andando. in un periodo come questo in cui tra realtà virtuale, social media, se guardiamo da Matrix fino a Black Mirror, il futuro che si prospetta sembra quello di una grande alienazione, cioè di persone che sono sempre più lontane ma interconnesse, sempre più isolate e solitarie. Dall'altro lato vediamo che le stesse sono sorprese e si divertono come dei matti quando in realtà fanno un'esperienza che è di tipo totalmente opposto. Quindi in realtà questo mi fa mettere un po' in dubbio qual è il futuro verso cui ci stiamo dirigendo. Cioè saremo sempre più isolati o invece ritorneremo a delle comunità reali? Partendo da questa domanda ho cominciato a documentarmi, a guardare un po' in giro e a riflettere su vari piani per cercare di capire se già oggi possiamo avere qualche indicazione sul dove stiamo andando. Bene, dal punto di vista evoluzionistico noi oggi abbiamo raggiunto uno status di semidivinità, se ci pensiamo. Pensiamo all'industria genetica, no? Noi adesso riusciamo a creare vita, a modificare vita. Però dal punto di vista strettamente naturale noi siamo ancora degli animali che vivono nell'età della pietra. Se ci pensiamo, l'uomo non ha subito delle modificazioni genetiche nessun tipo di mutazione negli ultimi 10.000 anni. Il genere umano è comparso 300.000 anni fa, per 280.000 anni non ha fatto altro che vivere nella savana come un raccoglitore o come un cacciatore. Quindi il nostro fisico è costruito per questo. Noi non è fatto per stare all'interno di una stanza e interagire con il mondo che abbiamo intorno utilizzando uno smartphone, un computer o comunque internet. Anche perché l'esperienza che ci offre la vita virtuale riesce a coinvolgere sostanzialmente due sensi, la vista e l'udito, il modo in cui noi ci interfacciamo e abbiamo coscienza di quello che ci succede nel mondo virtuale, si misura sostanzialmente nel numero di like che generano le nostre attività. Quando in realtà la vita reale possiede una profondità molto più vasta perché coinvolge sostanzialmente tutti i nostri sensi. Cioè stiamo parlando proprio di due mondi completamente diversi. Uno che vede una separazione dal nostro corpo e un altro quello reale in cui il nostro corpo è perfettamente lì dove deve stare. Dal punto di vista psicologico e sociologico esiste un fattore di novità che è fondamentale nel decidere quella direzione in cui noi stiamo andando. la mia generazione, quella successiva alla mia, cioè quella di millennial, è cresciuta senza social media, senza smartphone, la mia nella fattispecie è cresciuta senza internet e senza cellulare. Quando sono arrivate tutte queste cose per me e per tutti noi, per tutta la nostra generazione è stata un'enorme innovazione che ci ha dato degli stimoli completamente nuovi, ci ha incollati e ci ha resi sostanzialmente dipendenti da queste realtà. Ma uno che nasce oggi e che tra vent'anni sarà un ragazzo cresce in un ambiente in cui i social media, internet o l'evoluzione dei social media saranno qualche cosa di oramai consolidato. Un ragazzino tra vent'anni magari imbroccherà le ragazzine utilizzando Tinder, forse. Però per lui questa non sarà mai una novità. Quale può essere una novità per uno che nasce oggi? Una delle possibilità, la novità del futuro potrebbe essere davvero il mondo reale, cioè una persona che nasce in un ambiente completamente virtuale e online trova qualche cosa di nuovo nella vita reale. Di esempi ne abbiamo anche oggi. I millennial stanno riscoprendo i dischi in vinile. La mia generazione non avrebbe mai comprato un disco in vinile nel 2018. Ma perché mi sto impuntando così tanto sul tema della novità? Perché la novità è un fattore molto forte e che agisce a livello neurologico nel nostro prendere azione, nel nostro iniziare a fare qualche cosa. Perché, come leggete, l'incertezza è ciò che esercita una fortissima attrattività. Quando noi ci approcciamo a fare qualche cosa di nuovo, sostanzialmente l'incertezza del risultato e il potersi aspettare qualche cosa di positivo è ciò che sostanzialmente ci muove all'azione. Una volta che poi riusciamo ad avere una ricompensa positiva o sorprendentemente positiva, il nostro cervello la ricorda e ci porta a ripeterla fino a quando questa non diventa un'abitudine. Quando questa incertezza si abbassa perché le ricompense cominciano a diventare prevedibili, il nostro cervello sostanzialmente si abitua, perde interesse e si muove per fare qualche cosa altro. Quindi, se l'incertezza è un motore così forte, vi chiedo che cosa c'è di più incerto, caotico e imprevedibile della realtà, che è così vasta, così profonda, così imprevedibile? Ma adesso sto facendo una sorta di discorso che è quasi paradossale, cioè io sto dicendo, sto cercando di fare una previsione di un qualche cosa che sostanzialmente è imprevedibile, cioè la realtà. Come posso dire che c'è una possibilità che si ritorni al mondo reale? E per questo mi viene in mente una teoria molto affascinante che si chiama teoria del caos. Il caos è una teoria scientifica che è nata negli anni Sessanta per spiegare fenomeni meteorologici, poi dopo è stata estesa ed applicata anche in altri ambiti, come quello sociologico o economico, che descrive fenomeni che sono caotici, difficilmente imprevedibili, se non imprevedibili e estremamente complessi, in cui i fattori che entrano in campo sono talmente tanti da rendere impossibile sostanzialmente la previsione puntuale e precisa di quello che sta succedendo. Questa teoria del caos, che vedete rappresentata in tanti grafici, questo è uno di quelli, dice che un fenomeno caotico è molto complesso, noi non possiamo capire esattamente come si muoverà nel futuro, però possiamo capire all'incirca in quale range di incertezza si può muovere. e questo spostamento, questa evoluzione, in presenza di un forzante, che ha un nome bellissimo, si chiama attrattore strano, riesce a creare dei comportamenti che sono ripetibili o anche ciclici. Questo cosa significa? Portando la teoria del caos all'interno di questa tesi, significa che il nostro futuro, se la realtà è davvero così imprevedibile, però il nostro futuro in qualche modo potrebbe essere un ritorno al mondo reale e alla vita reale, perché in questo caso l'attrattore strano sta scritto nel nostro codice genetico che ci vuole un animale sociale, quindi noi adesso stiamo magari facendo una grande parabola nel mondo dell'online per poi, probabilmente, ritornare e apprezzare l'offline. Ma attenzione, c'è una cosa molto importante, perché nella teoria del caos e nei sistemi complessi le piccole variazioni iniziali possono portare a lungo termine degli sconvolgimenti incredibili, la famosa teoria dell'effetto farfalla. Quindi questo significa che se vogliamo tradurre in concreto quella che è la mia tesi e quello che è il mio desiderio di ricominciare a vivere i rapporti umani in una maniera diretta e terrena, quello che vi invito a fare è quello di utilizzare i social media in una maniera leggermente diversa, ossia fare questo piccolo cambiamento, ossia non considerarli più come un termine finale delle nostre attività o un motivo per cui fare attività, quindi quello di condividere una foto su Instagram piuttosto che fare un post su Facebook, ma utilizzarlo come mezzo per fare delle attività, per incontrarsi e fare qualche cosa di concreto. e quindi invito tutti voi di utilizzare i social media in modo diverso e godervi la realtà. Grazie.